C'è sgomento e dolore in Valdarno per quanto accaduto all'alba di domenica 1 ottobre. In seguito ad una rissa fuori da un locale a terra nuova Bracciolini, scatenatasi per futili motivi, ha perso la vita il 38enne Joel Ramire Zaipo, colpito alla gola da un pezzo di vetro tagliente. I carabinieri del comando Aretino, in particolare quelli della compagnia di San Giovanni Valdarno, stanno cercando di risalire all'identità del responsabile. L'inchiesta sull'omicidio è coordinata dalla PM Francesca Eva. Al vaglio degli inquirenti, le immagini delle telecamere di sicurezza del locale che hanno permesso di identificare una ventina di persone che hanno preso parte alla rissa. Alcuni di loro, assieme ad altri testimoni dell'accaduto, sono già stati ascoltati. Secondo indiscrezioni, sarebbe un uomo la persona che ha scagliato l'oggetto di vetro contro la vittima. Il 38enne lascia una figlia piccola. In molti lo ricordano sui social anche un messaggio del sindaco di Montevarchi, Silvia Chiesai Martini. La comunità di Montevarchi si stringe attorno alla famiglia per la perdita di Joella Ramirez Saipo, che era arrivato a Montevarchi da bambino, poi il lavoro, l'amore, il basket e il giocatore del gioco del Pozzo in Santa Maria. Non ci sono parole per esprimere il nostro dolore per una giovane vita spezzata. Grazie. Grazie.